Siamo qui all'Università Sapienza per l'Univax Day 2019. Siamo con la professoressa Teresa Palamara, che è ordinaria di microbiologia, membro del comitato scientifico dell'Istituto Pasteur Italia e presidente della Società Italiana di Microbiologia. Professoressa, le possiamo chiedere quali rischi comporta vaccinarsi e eventuali anche effetti collaterali della vaccinazione? Sì, direi che i vaccini sono tra i presidi medici a nostra disposizione quelli più sicuri e più controllati. Bisogna però dire che non esiste in medicina il totale rischio zero, ma d'altra parte il rischio zero non esiste in nessun campo che riguarda la salute umana. Pensiamo per esempio ai trattamenti cosmetici. Il sistema di farmacovigilanza che esiste in Italia e in Europa è un sistema assolutamente funzionante e anche eventuali piccoli effetti collaterali sono tenuti in considerazione e vengono segnalati. Questo non significa che non possa essere migliorato, ma insomma mi sentirei di dare un messaggio per cui ci si può vaccinare in assoluta sicurezza. Ringrazio molto. Grazie a voi.